Ciao ragazzi, buonasera, benvenuti nel mio laboratorio oggi parleremo di il montaggio di un accessorio per il monopattino che ho fatto difficoltà a trovare su internet quindi tutorial non ce ne sono, è una cosa abbastanza semplice però ve la faccio vedere parliamo di questo, portapacchi da mettere sullo Xiaomi Essential in questo caso, ma il tutorial è valido sia per l'1S per l'M365, modelli simili insomma passiamo dallo smontaggio del catarin frangente che è quello che copre il bullone della ruota posteriore e allo smontaggio del cover di plastica e al montaggio del portapacchi stesso eccoci qua, allora, io uno già l'ho tolto praticamente, parlo di questo se vedete, dietro qua, non so se riesco a farvelo vedere c'è un buchino, eccolo in questo buco va inserito un ferretto che praticamente va a spingere eccolo qua, la linguetta del catarin frangente per farlo uscire verso fuori adesso vi faccio vedere allora io, scusate l'inquadratura ma oggi non ho nessun supporto che mi mantiene il cellulare perché è stato fatto un'improvvisata quindi prendete un ferretto così vediamo se riesco a metterlo a fuoco vi date una piccola piega e vi aiutate con la pinza a spingere ecco qua, vediamo se ecco fatto buono è caduto il catarin frangente e poi qui ci troviamo le due vitine esagonali andiamola a svitare con una mano faccio fatica le smonto e poi riprendo il video a tra poco eccoci qua il risultato è questo per chi può interessare una volta che è smontato potete vedere queste due viti qua che vanno a fermare un supporto che c'è qui dietro che va a mantenere in asse il bullone della ruota e poi c'è questa vitina nera qua che è quella che mantiene il supporto del parafango che è quello che praticamente i vecchi modelli Xiaomi non avevano e che tutti lamentavano il fatto che appunto il parafango si muovesse passando invece al montaggio del portapacchi dovrebbe essere abbastanza semplice ecco qua di qua è andata e di qua ecco fatto vediamo se i fori combaciano bene ok ora non facciamo altro che mettere questo sopra utilizzare le sue viti in dotazione che già avevamo stringere il tutto e avere un portapacchi per chi si chiede come farà a mettersi in posizione di chiusura non potendo più utilizzare questo supporto qua che è quello che si agganciava al campanello c'è quest'altro e niente avvito tutto e riprendo appena ho fissato eccoci qua ragazzi lavoro finito allora non vi nascondo che non è proprio compatibile al 100% nel senso che è fatto per questo monopattino però ho dovuto tribolare nel senso che non era proprio precisissimo quindi ho dovuto leggermente raddrizzare da un lato un po' dall'altro c'è stato un po' di lavoro quindi o siete fortunati che vi arriva un modello un po' perfetto che è calza a pennello oppure dovete tribolare un po' comunque alla fine questo è il risultato finale non è malvagio vediamo come chiude se riesco scusate un attimo che c'è una sola mano ecco qua ecco fatto quindi chiude e richiude e niente ragazzi io vi ho reso partecipe di questo poi una cosa che volevo dirvi visto che tra un po' saranno obbligatori le frecce da montare sul monopattino io ne ho prese due da montare una avanti e una dietro e dietro non sapendo dove montarla approfitterò del portapacchi per fissarla in qualche modo poi magari farò un video ciao a tutti ragazzi grazie grazie a tutti